Buonasera, abbiamo cominciato con Viva la Vita, stasera una cosa diversa, stasera una trasmissione esplosiva, anche perché si sta bene questa sera, si sta più presto, vogliamo ringraziare a Liana e cameraman, alla signorina che è dietro la telecamera, è doveroso anche da parte nostra salutare tutti gli ammalati con una prestazione. Ciao Tania, ciao Tania, è doveroso da parte nostra salutare tutti gli ammalati con una prestazione rapida guarigione per tutte le persone che soffrono, per i dofferenti, per i non vedenti, è un saluto particolare per tutti gli ospiti dello Stato con una prestazione rapida libertà. Grazie, un bacione e lo mandiamo per tutti i telespettatori di questa bellissima emittente, va bene? E diciamo ancora che le telefonate devono essere un pochettino più brevi, magari diamo lo spazio a tutti quanti perché ne sono tanti. Se ne stanno aggiungendo ancora di più e a noi ci fa piacere. E questo ci mi fa molto piacere perché si vede che siamo seguiti Mary. E certo, è normale. Ma noi lo vogliamo bene, anche noi allora. Però vogliamo dare la possibilità di chiamare più di una persona. Tante persone, tante persone. Ecco la prima chiamata. Sì, di fare dei salutini brevi e poi tutte le persone si possono associare. Esatto. Ok? Pronto? Pronto? Ciao. Buonasera. Ciao chi sei e di dove chiami? Ciao Maria, buonasera Mary. Buonasera. Sono Tina da Casolesenna. Ciao Pina. Ecco la Pina è... Vorrei fare un saluto a tutte le mie amiche. Sì. Su... Il gruppo. Va benissimo. Va benissimo. Un soldone anche da parte nostra. Sì. Mario, vorrei fare una canzone ma è tutto a piacere tuo perché sono tutti belli. Sì, va bene. C'è una canzone che noi dobbiamo dedicare a sua figlia per lui. Lunedì scorso. Lunedì non abbiamo potuto e quindi questa settimana... E gliela dedichiamo questa sera alle persone che non abbiamo accontentato. Lunedì gliela accontentiamo questa sera perché è giusto e doveroso fare queste cose qua. È normale. Va bene? E quindi la prima canzone la dedichi a Marisa e a Pina con tutta la famiglia. No, ascoltami. Allora, la prima canzone la voglio dedicare a tutte le persone che ci seguono. Poi, dopo... La seconda. La seconda canzone la dedico a Marisa. Allora, Pina, ascolta la seconda che è tutta per te. Mario, mandami un bacio. Primo piano. Va benissimo. Mandagli un bacio. Un bacio, vieni qua. Va bene? Tutto per te. Ok, grazie. Ciao, Pina. Ciao, Mary. Ciao. Un bacio, Mary. Ciao. Allora, lasciamo questa prima bella telefonata, Pina da Casavestina, che è sempre con noi. Sempre, sempre. È una nostra fan. Ma non solo lei. Tutte le persone, tanti. Ne sono tante e noi veramente ne siamo felici e orgogliosi. Mary, se prima mi metti, io voglio mandare un salutone. Ci sono delle persone che ci guardano, che mi stanno fermando per strada e dicono, Mara, ma non ci saluti mai. Allora, mandiamo un bacione, perché ci sono da Maddaloni. Ci sono delle nostre fanze. Ciao, Lisa e ciao, Felicetta. Un bacione da parte mia. Anche per tuo figlio Antonio, che ci sta guardando. Va bene? Fatto. Dai, vediamo chi è ancora con noi questa sera. Pronto? Pronto. Ciao, chi sei e da dove chiami? Ciao, Mario. Ciao, Mary. Sono Elisa da Frattamaggiora. Ciao, Elisa. Ciao, Elisa. Faccio dei saluti flash presto presto. Brava, Elisa. Brava, brava. Questa trasmissione. Brava. Bellissima questa trasmissione. E faccio tanto di saluto allo staff. Bella. Bene, bravo. Voi com'è brava. Allora. Lo staff ti cambia. Poi saluto. Mario, breve e breve, vuoi dare spazio agli altri. Brava, brava, brava. Ma io questo voglio. Fammi parlare. Sì, vai. Allora, io annuncio prima il brano sopra della linea. Sì, vai. Il brano tuo nuovo cambio in mondo lo dedico a te, a me, con tutta la tua bella famiglia. Grazie. A Ruffina, a Angela, a Pietro, a Isabella, a Francesca, a Cammela e a tutti i gruppi. A mio figlio Luigi e a Mena, un bacio. Ci associamo. Grazie. Buon prosodimento e a me con una buona visione. Mario, un bacio. Grazie. No, Elisa. A te, Mery, un bacio. Siete bellissimi, una bella coppia. Grazie, grazie, Elisa. Mario, me lo devono a me un bacio. Sì, come noi. Va bene? L'ha preso. Sicuramente la becca è caduta, Mery. Sì. Allora, prima che iniziamo voglio salutare a Ersidia da Roma perché mi ha mandato un messaggio. Non ce la faccia male perché non ha voce. Ahia. Allora, ciao Ersi. Ciao Ersi da Roma. Eccola qua. E mo' ti stavo salutando. Ti stavamo salutando perché Mery mi stava dicendo... Perché tu hai detto che non potevi parlare e quindi ti stavo salutando. Sì, lo so, ci ho provato. Ah, va bene. Allora vai, prima che non ce la fai. Oh, amori miei, ti voglio bene. Anche noi ti vogliamo bene, Ersi. E il fatto ho sentito, ho sentito. Sì. Grazie. Sì. A Roma come si sta Ersi? A Roma si sta benissimo. Io sto bella, fresca, fresca. Anche noi questa sera... Sì, veramente. Si sta più fresca, si sta più fresca negli studi, dai. Si sta benissimo, freschi. Grazie. Sì, sì, hanno provveduto. Hanno provveduto. Ora non voglio prolungarmi. Vai Ersi, dai. Non voglio prolungarmi. Vai Ersi. Saluto tutto il gruppo di Whatsapp. Benissimo, bravo. Saluto tutto il gruppo degli amici di Whatsapp. Brava. A questa bellissima rittente. Sì. E basta. Brava, Ersi, brava, brava. Noi ti abbracciamo e ti salutiamo. Siete favolosi, complimenti, complimenti. Grazie. Un saluto allo staff di Ciao TV. Va benissimo. E basta. Mario, se mi puoi fare una bella dedica, a piacere. Va benissimo, Ersi. Poi ti dedico una bella canzone. Ok, grazie mille. Ciao, Ersi. Ciao, Ersi. Anche noi. Ciao, Ersi. Allora, Mario, adesso iniziamo. Allora, Mary, io vorrei cantare la prima canzone, la canzone molto bella, che tratta dal mio quinto lavoro discografico, la canzone che si intitola Solo Tu. Bellissima. Questa è una bellissima canzone, che io tengo molto a questa canzone. e voglio salutare l'autore di questa canzone, il grande Tony Sigillo. Lo salutiamo e gli mandiamo un bacio. Ciao, Tony. Ciao, Tony. Allora, prendiamo questa altra bella telefonata e poi andiamo a cantare con la canzone Solo Tu. Diciamo subito, pronto? Pronto? Pronto, ciao, sono Isabella Esposito. Ciao, Isabella. Ciao, Mario. Ciao, Ersi. Un bacio. Ciao, Isabel. Tutto bene? Benissimo. Non riuscivo a prendere la linea, Mary. Eh, sì. Hanno chiamato le tue amiche prima di te. Sono state più brave comunque. Ma va bene, ma adesso sei in linea con noi, dai. Comunque voglio salutare le persone in gruppo. Va benissimo. Poi, a Mary, un bacione. Grazie anche a te. E a Mario. Grazie. Landi. Grazie, molto. È un grande artista. Mi piacciono molto le sue canzoni. Grazie, Isabella. Sei molto buona e molto brava. Sei bravissimo, Mario. Grazie, Isabella. Da dove chiami, Isabella, Mary? Da Casannuovo. Ah, allora salutiamo Isabella da Casannuovo, tutto Casannuovo. E con tutta la tua famiglia. E poi a mia sorella Angela. Sì. Ciao, Angela. Un bacione forte, forte. A tutti quanti. Anche, sia buona a Mary, un bacione che al suo marito. Va benissimo. E su, pure tu vi bacio stasera. E vai. Ciao, Mary. Ciao, tesoro. Ciao, un bacio. Un salutone per te. Ciao. E per me è stato un bel brano, Mario. Ciao. Va benissimo. Dopo ti dedico un bel brano per te e per tutta la tua famiglia. Va bene, Mary? Allora, sì, facciamo gli auguri. Ciao, Isabella. Ciao. Allora. Allora, facciamo gli auguri perché oggi è Santo Alessio e Alessia. Mary, io sapevo ieri che era Santa Carmela. E facciamo anche gli auguri a tutte le Carmele e Carmine. Va bellissimo. In particolare a Carmelina, la moglie di Enrico Brunetti. Adesso che non è qua, però è in America. È in America, lo so. E ci sta guardando. Ciao, baby, un bacione. Ciao, un bacio. Eh.